buongiorno bambini eccoci qua nuovamente con un nuovo video per spiegarvi le tecniche che ancora non conoscete o che abbiamo appena lavorato magari online allora oggi andremo a fare il chin look numero 6 il chin look numero 6 l'abbiamo fatto nelle ultime lezioni è abbastanza semplice lo potete seguire sempre nel video qua accanto mentre io lo spiego e così andiamo a vederlo nel dettaglio allora il chin look numero 6 ci si mette sempre in posizione di guardia come al solito gamba sinistra avanti e si parte subito con due tecniche di taglio la prima con la gamba avanti sono tecniche chen hai il taglio numero 2 chen hai sinistro quindi corrispondente alla gamba avanti chen hai destro corrispondente alla gamba dietro e subito dopo si tira un dam tang si tira un dam tang con la sinistra cosa succede nel momento in cui vado a tirare il dam tang si passa dal ding tang sinistro al chun bing tang con la gamba sempre sinistra avanti quindi si ha una rotazione solo dei piedi e del bacino ci si va a portare in chun bing tang quindi sono in chun bing tang con il dam tang sinistro dopodiché si carica la gamba a destra e si tira il da dap destro e termina il chin look ok quindi lo rivediamo lentamente bene posizione di guardia ding tang sinistro chen hai sinistro chen hai destro ruoto in chun bing tang dam tang sinistro e da dap destro bene spero siate riusciti a seguire il chin look numero 6 aspetto soltanto i vostri video per vedere se l'avete imparato correttamente e come ci vediamo adesso